Ciao e bentornato Oggi voglio rispondere nuovamente a Manuela Stapezze la quale mi richiede, come magari ce l'avrai visto in questo video come poter andare a cancellare anche i file da Instagram ovvero quelli che possono essere quindi i post Instagram e oggi vediamo come è semplice poter andare a cancellare i post da Instagram come prima cosa ovviamente ci dirigiamo sul nostro Instagram e una volta ovviamente andato sul nostro Instagram ci dirigiamo su quello che è il nostro profilo in questo caso possiamo decidere di poter cancellare un qualsiasi post pubblicato quindi sia se l'ultimo recente, come in questo caso, ad esempio questo mio che ho pubblicato oggi oppure ovviamente quelli che possono essere anche quelli là dietro senza alcun problema per poterli cancellare è semplicissimo quindi bisogna andare su quello che può essere la foto in questione tipo ad esempio questa qui cliccare sui pallini in alto, vedete e poi premere su elimina in basso una volta eliminato ci chiederà di poter andare a cancellare tutti quanti i dati ovviamente in questo caso ovviamente io ora non vado a premere altrimenti il post si andrà ad eliminare e ovviamente il post non verrà più visto sopra Instagram e quindi nessun utente, compreso noi, potremo più vederlo sul nostro profilo spero che questo video ti sia stato utile per qualsiasi problema, richiesta, eccetera scrivimi nei commenti sono felice di poterti aiutare e poterti magari anche riportare un video dove ovviamente mi chiederai un qualsiasi richiesta di un aiuto spero che questo video ti sia stato utile se ti fa piacere iscriviti al canale metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao